ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono stan vi do il benvenuto qui al canale siamo qui su farming simulator 2019 nella mappa di heidi allora ci troviamo qui su questa bella mappa e continuiamo dal precedente gameplay allora stavo stavo ho caricato il secondo viaggio mi sembra di o il terzo non mi ricordo più di legname e off camera ho un po buttato giù diciamo 57 mila euro molto bene ok abbiamo venduto volevo capire quanta legna a 171 mila euro questo è il terzo viaggio che mi sto che mi son fatto e la sulla cosa stavo per dire sì che con le scorpion king sono andato avanti off camera guarda come potete vedere dalla dalle immagini mi sono portato un po avanti diciamo che siamo a metà strada più o meno allora adesso vedete come potete vedere devo finirmi di raccogliere quella legna lì e poi andarla a vendere immagino che per di qui non ci si passi sì invece molto interessante ok piano 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 comincia già a caricare molto bene allora mi faccio sti viaggetti qua e vado a vendermi sta legna qua ragazzi io come sempre però prima di andare avanti e di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale per se non l'avete ancora fatto lasciate come sempre bei pollicioni su per supportare la serie e i video che sto facendo il lavoro che sto portando avanti mi raccomando campanellina per non perdervi nessun gameplay commentate condividete e inoltre giù in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale comunque piccola donazione vi ringrazio in più trovate i canali di telegram e discord seguitemi anche lì vediamo se riesco a fare un po la manovra furba altro giro altra corsa allora dobbiamo anche continuare a portare avanti la trebbiatura dei terreni perché sono da trebbiare i nostri terreni ormai poi dobbiamo occuparci anche di questo terreno qui perché lì dovremmo seminare nuove alberi perché sennò non vale la pena tenerlo quel terreno lì ok allora altro giro di vendita speriamo di guadagnare sempre bei soldini vediamo se trovo il punto ok se 62 perfetto ok andiamo a sto punto mi faccio quei 34 sono tre viaggi sarà mi faccio quei tre viaggetti e ci vediamo anzi se no adesso andiamo a sistemare la trebbia che la mettiamo in funzione ok basta perché basta ho detto e siamo pieni all'inverosimile andiamo a vendere anche questa ormai tanto la sto carico qua è un po più sporgente del solito non di tanto bene abbiamo raggiunto i 300 mila euro molto bene fammi capire a che punto sono io a ok avevo iniziato a avevo iniziato la semina ok quello di lì è seminato mi sa eh maledizione ok semi di soia anche qui ok dai vai operaio muoversi che qua dobbiamo andare avanti con le lavorazioni perché stiamo già seminando e il problema è capire e ricordarsi cosa dovevamo seminare perché lì possiamo vedere cosa dovevamo seminare però è sempre un però molto bene molto bene facciamo un giretto attorno e poi teoria potrei già anche mettere l'operaio anche qui perché ok se questa è la scorpio mi serve un trattorone tipo questo che era acceso e avena abbiamo qua allora dobbiamo portarla in farm qua ci vuole un trattore a seminare si c'era il qua c'è sempre la roccia che ci fa capolino perché ogni volta che aggiornano la mappa gli oggetti tornano allora vediamo un attimo dove il silo eccolo qua allora un trattore per un trattore un trattore vediamo un attimo cosa usare forse il broder un attimo perché se no non ce la faccio a svuotarla meglio che cambiamo strada allora giusti giusti perfetto ok questo può andare a caricare legname molto bene questo ok ne rimane soltanto uno ok preva tu fermo lì che non ti impicciare bene allora finiamo allora vediamo dove devo finire di seminare tipo qua in mezzo ok ok a posto molto bene molto bene molto bene questo può star qui questa la rimettiamo all'opera al lavoro e con questo andiamo a vendere l'ultimo viaggio l'ultimo ce ne sarebbero qua da fare ancora viaggi ok 53 e 52 euro molto bene dammi qua perché non ci siamo non ci siamo per il momento con la legna avrei anche finito capire cosa fare sarebbe interessante domando ma quanti terreni ci sono da trebbiare oltre a questo ma c'è anche il 25 e il 24 da trebbiare allora il 25 ha semi di soia mentre il 24 è colta allora dobbiamo andare direttamente al 25 va bene allora prima trebbiamo il 25 e poi ci trebbiamo qua mettiamo adesso l'operaio a seminare andiamo a prendere il trattore grosso finisciti qua che io vado a prendermi questo lo portiamo lo riportiamo lì vicino perché sennò poi mi dimentico che l'ho lasciato qua ok fammi capire che problema c'è adesso che non l'ho capito perché questa seminatrice qua non semina più secondo me c'è qualche problema comunque non sta seminando vedete semina a pezzi ok cominciamo anche qui a raccogliere che dobbiamo andare avanti un attimo capire cosa sta succedendo sulla tre sulla seminatrice qua perché non ci siamo perché non credo sia nell'asseminatrice il problema a sto punto volevo prendermi un nuovo trattore visto che abbiamo un bel budget allora mi prenderò mi prendo questo questo Lamborghini match vrt da 269 cavalli ruote con il peso pneumatici larghi con il peso sta bel va qua e la andiamo a prendere e la compriamo ok abbiamo preso un nuovo trattore un attimo perché la trebbia è da scaricare scarichiamo sta trebbia eccolo qua molto interessante anche perché fa i 63 allora cosa facciamo con questo trattore beh lo mettiamo proviamo almeno fargli fare il pieno poi dobbiamo anche ripararlo ripara e lo andiamo a pulire abbiamo finito col pieno sì almeno a cinque ore anche questo vediamo dove posso mettere l'idropulitrice per pulirlo vediamo in farm beh allora la metterò qui sto messa lì visto che non si poteva mettere da nessun'altra parte allora già che sono qui mi attacco il coltivatore è un piccolo pesetto guarda già che ci siamo guarda dai dagli una lavatina guarda dai posto sperando che il problema sia solo in questo terreno qua ok ce la facciamo coltivare sì perfetto eccellente ok molto bene ok faccio il giretto come sempre però strano che dia sti problematiche qua eh fatemi sapere se anche voi avete qua riscontrato sti problemi che almeno perché beh non lo so mi sembra strano che nel primi prima ha funzionato adesso non ha più funzionato non saprei ok allora beh tanto questo dobbiamo spostarlo perché vorrei che posso metterlo qua e tanto va bene così allora fammi capire la trebbia vai adesso sistemiamo un po' le zone qua perché sennò l'operaio combina guai sì vabbè lì c'è da un po' da sistemare però ma scusa ti fa schifo girare per di qua guarda testi operaio dai che sistemo qua io la zona perché sennò va che disastro ha fatto qua l'operaio ok ok vai adesso stai seminando sì sì ma non così ma dai ma cos'è ne ha presa in giro questa allora volevo prendermi un nuovo terreno anche e ci prendiamo il 26 anche se ha un isoletta in mezzo ed è un po' particolare eh sarebbe un po' particolare il 26 eh ci sarebbe il 53 che non so bene anche il 43 eh ci sarebbe il 43 che non è malvagio che è questo eh però mi servono ancora un bel po' di soldini mi è tutto vabbè che me frega a me perché mi è tutto tanto devo analizzarmelo se mi servono altri 60 mila euro eh diciamo che eh 60 mila euro e facciamo saltare fuori da un altro viaggetto di di legna casomai il prossimo terreno il 43 lo andremo a prendere nel prossimo gameplay tanto devo gestirmi anche gli animali perché a parte che potrei vendere due animali in croce proprio vabbè io direi di andare avanti un po' con la legna anzi prima di andare avanti con la legna volevo farvi vedere un'altra cosa volevo farvi vedere volevo provare a fare un'altra cosa volevo togliere un po' di ceppi con questa noleggia qua come sta viaggiando ma a parte lì eh devo fermare questo perché se no ok questo ha finito sì ok questo ha finito andiamo a scaricare lo mettiamo intanto lì sui sulla colza vai inizia ok ok allora questo ha finito dice lui beh sì avevo un pezzettino vabbè almeno finiamo sto pezzettino qua e poi che poi andiamo a posso mettere l'operaio a finire lì devo capire se il terreni devo lavorarlo così oppure sì sì o è stato un problema di questo campo non poter essere sistemato ue 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 fermo 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 ok vai però prima fammi andare a seminare a vedere se semino la no no è un problema c'è qualche problema ah devo accenderla naturalmente no qua funziona che strano però eh che strano dai lì seminiamo avena ormai ok questo dobbiamo andare a scaricare ah questo dobbiamo spostarlo però eh che per il momento non ci serve oh questo dobbiamo portarlo al campetto voglio provare una cosa ok dai vai 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 che seminiamo correttamente ce la facciamo sì molto bene scarica colza bene allora vediamo di togliere un po' di alberelli da qua molto bene dalla velocità dalla luce e non andiamo a togliere però quegli alberi che mi servono però sti alberi qua non me li fa togliere perché dice che non sono miei per cui io andrei a eliminarli in maniera definitiva perché tanto mi dice che non sono miei e io non li voglio bene almeno mi ripulisco il terreno benissimo benissimo ok vai che almeno ho fatto sto lavoro qua andremo a seminare i nuovi a piantare non a seminare piantare nuovi alberi in modo da andare avanti con il legname molto bene molto bene perfetto poi off camera naturalmente andrò a sistemarmi anche questi alberi qua nel senso che andrò a tagliarli per poi andarli a vendere nel prossimo gameplay ok anche per mi servono qualche mi serve qualche soldino per riuscire a comprare il terreno vediamo che finiamo ah qua ce n'è uno nascosto come siamo messi bene bene posto ultimi tre due vabbè tanto poi tanto poi me li sistemo io questo lo possiamo lasciare qua ok abbiamo pulito il terreno qua cosa sta facendo dammi qua zio che finisco io la trebbia in teoria dovrebbe stare a funzionare beh certo bene ok ok si chiudi e questo lo mettiamo però facciamo così facciamo a cambio visto che abbiamo preso il trattore nuovo bene 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 che bello l'ho fatto vedere dall'interno ma dall'interno è fantastico qualcosa di fantastico vabbè qua 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 la trebbia meglio che la usiamo noi un attimo ho finalmente posto adesso l'operaio può tranquillamente fare il suo lavoro fare il suo lavoro questo sta seminando come sempre alla meno peggio diciamo per non dire qualcos'altro ma ragazzi io per il momento mi fermo qui come sempre vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate cambiare le notifiche per nessun gameplay lasciate come sempre i pollicioni su che andate qui dei million like commentate condividete inoltre tutto giù in descrizione trovate il link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione vi ringrazio io vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti e grazie di essere qui in mia compagnia e alla prossima ciao ciao